Ciao ragazzi, avevo voglia di un cambiamento ed eccolo qua, mi sono tagliati i capelli, sono andata da Wow Hair e se volete farlo anche voi, codice sconto Aurora Curly 1 So che parlo sempre di accettare i propri difetti, però quando è troppo è troppo e non ce la facevo più con i miei brufoli e quindi ho deciso di rifarmi il naso in modo da poterli coprire in base alla prospettiva e se volete anche voi, contattatemi in privato Grazie